Un solo Taipan, è il Taipan. Taipan vuol dire capo assoluto. Taipan vuol dire Hong Kong, la sua città. Taipan è la nobil casa, una dinastia destinata al potere, al comando. Dirk Struan è il Taipan. E un uomo così può avere un solo vero nemico. Lo voglio morto. Fatevi costruire una bara. Brian Brown è il Taipan. Prima TV, lunedì alle 20.30 su Canale 5. Sei pronto? Non fai colazione papà? No, un caffè e basta. Oggi sarà dura, imbarca. Per questo devo mangiare. Io voglio stare leggero. Ci sarà da lavorare. Miccole. Biscotti secchi e leggeri ai fiocchi di cereali. Buoni. Ma tu non eri quello che non faceva colazione? Io ho detto solo che è meglio stare leggeri. Miccole. Bella linea pan dolci del mulino bianco Barilla. Per mangiare sano. Fino a ieri si pagava così. Da oggi, Sixcard. Il sistema multifunzionale. Sixcard. Per il pagamento e l'accredito automatico. Sixcard è semplice per il negoziante che ha l'accredito diretto in conto. Comodo per il cliente che paga con la sua carta. Oltre 5 milioni di italiani hanno una carta abilitata Sixcard. Da oggi, Sixcard. La vostra banca sul banco. Nussini, il cioccolato milka si è fatto snack ricco di nocciole. Lieve nel cuore. Croccante da mordere. Nussini, lo snack leggero e croccante. Da oggi, anche meno dolci. Milka, il lilla che invoglia. C'è una city bike che ti aspetta in ogni standa. Puoi vincerla compilando una cartolina che ti sarà consegnata gratuitamente. E in più, il 10 settembre alle 20.30, guarda Canale 5. Puoi vincere anche un viaggio da 10 milioni e altri premi. Corri alla standa. Pensa, c'è un indice per tutto e le ricette passo a passo. Sì, a schede, ma non dirlo a nessuno. La mia cucina pratica. In edicola, sole mille lire, il primo fascicolo, il raccoglitore e il salva scheda. In più, partecipa al grande concorso Philips. La mia cucina pratica. De Agostini, idea donna. Et voilà. Si sposa sulla tavola per te. Si sposa coi sapori. Sapori, gusto, Italia. L'Italia di un gran vino è così. Tavernello Corovin, il vino dell'Italia a tavola. Che hai detto? Io ho detto che è meglio stare leggeri. Miccole, della linea Pandolci del mulino bianco Barilla. Per mangiare sano. Sì, com'è naturale. Hai solo due occhi. Ecco, il baby control Chicco. Per essergli sempre vicina, anche quando non sei con lui. La linea Sicurezza proteggi Bimbo Chicco. 50 prodotti per mamme che hanno solo due occhi. È uno dei migliori elementi del controspionaggio inglese. Segni particolari. Coraggio, astuzia, abilità. È uno dei più leggendari attori del cinema americano. Dotti particolari, fascino, bravura, temperamento. Un eterno ragazzo. Un uomo indomabile. Un tipo vincente. Paul Newman è l'agente speciale Macintosh. Martedì 20 a 30 su canale 5. Alla standa, se compri per studiare, hai uno sconto per giocare, ascoltare, registrare. Perché con 50.000 lire di spesa nel reparto scuola, standa ti regala 10.000 lire da spendere nei reparti giocattoli e musica. Corri alla standa. Scopri la speciale estate di TV Sorrisi e Canzoni. E questa settimana, speciale calcio. In regalo il calendario del campionato italiano e la mappa delle sedi del mondiale. La hit parade dei simpatici e antipatici. Che estate, con sorrisi. De Agostini, con Deutsch Grammophon, Decca e Philips, vi invita ad una prima eccezionale. Guarda, guarda un po' lì. Ma è fantastico. Quanti saranno? Vedi, ascolta, ascolta. Sta per cominciare. In scena. I grandi dell'opera, la più grande raccolta di lirica in compact disc oggi in edicolo. Con il primo fascicolo, due compact disc. Il rigoletto di Verdi è una rarità. Toscanini prova la traviata. I grandi dell'opera, una grande proposta di Agostini. Extra! Dal primo a 31 agosto, la tua Seat con 6 milioni di finanziamento. In un anno senza interessi o con 199 mila lire per 36 mesi. Qui, negli anni 20, Camillo Gancia faceva per sé e per gli amici uno spumante unico e speciale. Castello Gancia. Oggi, noi Gancia, con lo stesso impegno, lo facciamo per voi. Castello Gancia. C'è una city bike che ti aspetta in ogni standa. Puoi vincerla compilando la cartolina che ti sarà consegnata gratuitamente. E in più, il 10 settembre alle 20 e 30, guarda Canale 5. Puoi vincere anche un viaggio da 10 milioni e altri premi. Corri alla standa! Ogni giorno, il calcare entra in casa tua. Dove c'è acqua, c'è calcare. E il detersivo contro il calcare non basta. Fai entrare via cal. Guarda, persino dove le incrostazioni sono più dure, via cal scioglie il calcare. Per questo, via, via, via il calcare con via cal. E tutto splende. Via cal. Via il calcare da casa tua. Il calcare non abita più qui. James! E chi se non Bond? James Bond. Elegante, seducente, irresistibile. Invincibile. Conosce le regole più raffinate dell'amore e dell'intrigo. Ama le donne, il rischio, il pericolo. Sa come avere il meglio della vita. E naturalmente la vita gli riserva il meglio. Agente 007 al servizio segreto di Sua Maestà. Domenica 3 settembre, alle 20.30, su Canale 5. E naturalmente la vita gli riserva di Sua Maestà. Invicta, tutta la libertà. Magie, se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto c'è Impulse. Magie, di Impulse. Oh, ma cosa fa, è impazzito? Devo dipingere una parete grande? Ci vuole un pennello grande! Ma non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, cinghiale. Cinghiale, la grande marca. Sarambelle, le schimesi, sarambelle, le frufru. Ma le candy, ma le candy, a noi piacciono di più. Sì, ecco la nuova lavatrice Candy Aquamix a sorgente. Lava più a fondo e una cascata sempre attiva elimina meglio i residui di detersivo. Una sorgente di pulito che lava, lava, lava. Nuova candy a sorgente, bucato più sciacquato, bucato più lavato. Sarambelle, le schimesi, sarambelle, le frufru. Ma le candy! Grazie, candy! Idea donna, raccomanda... I tuoi menu. Realizzare facilmente mille dettagli di buon gusto. È quello che ti offre ogni settimana, i tuoi menu. In edicola i primi due fascicoli con il grande concorso Lagostina. Scegli i tuoi menu. Quando fai sport, consumi molta energia e ad un certo punto il tuo fisico va in riserva. Questo è il momento di Dextro Force, energia naturale da mordere, in compresse di immediata assimilazione. Dextro Force, un pieno di energia. Indispensabile corso, di ombre. Un, due, tre, tornano gli amici. E di zingari! Lunedì, martedì e mercoledì, tre serate filate di scherzi e zingarate. Mascetti, Necchi, Sassaroli, Perozzi e il buon Melandri. Eccoli qui, i amici miei. Ragazzi, sul binario 3, parti in locale per Eroa! Amici miei, e amici miei atto secondo e terzo. L'unico di 4, martedì 5, mercoledì 6 settembre. Sullo schermo di canale Cipro. Sei pronto? Non fai colazione, papà? No, un caffè e basta. Oggi sarà dura, imbarca. Per questo devo mangiare. Io voglio stare leggero. Ci sarà da lavorare. Miccole, biscotti secchi e leggeri ai fiocchi di cereali. Buoni. Ma tu non eri quello che non faceva colazione? Io ho detto solo che è meglio stare leggeri. Miccole, della linea pan dolci del mulino bianco varilla. Per mangiare sano. Miccole? Sì. Sono io. Sei pronto per me? Da quanti anni sono qui? Da cinque anni. No, non bastano. Ma quanto tempo dobbiamo ancora aspettare? C'è un solo whisky di malto che riposa ancora in botti da sherry per almeno sette anni prima di incontrare una bottiglia. McCullough? Sì? No, niente. McCullough, il gusto di saper aspettare. Invicta, tutta la libertà. Nuovo da Pampers, per lei una tenera fantasia rosa di elefantini e orsetti. Per lui, un'allegra fantasia azzurra di trenini e barchette. E per te, l'asciutto imbattibile dei nuovi Ultra Pampers Boy & Girl. Volevo proprio fare qualcosa di speciale. Sì, ci sono più di 3000 ricette. E aggiungi un po' di ricotta. Ah, sì, ci sono anche piatti regionali. C'è un indice per tutto, le ricette passo a passo. È a schede, sai, ma non dirla a nessuno. La mia cucina pratica. In edicola sole mille lire, il primo fascicolo, il raccoglitore e il pratico salvascheda. In più, partecipa al grande concorso Philips. La mia cucina pratica, De Agostini, idea donna. Se nel tuo water c'è qualche incrustazione, ci vuole Mr. Verde, che copre e igienizza dappertutto ed elimina le incrustazioni. Così il tuo water è splendido. Come ti senti? No, no! Mr. Verde, igiene splendore del water. Che hai detto? Io ho detto che è meglio stare leggeri. Miccole, della linea pandolci del mulino bianco Barilla. Per mangiare sano.